Ciao cari veneti, il primo di maio veneto, questa è una data festeggata avanti del Dio dell'oro, una roba che non sapevo mia ma ho scoperto che chiesero a Drio parlare con il gran Aurelio, la Scala Marchesan, Eliseo In Gamba, ottimo scrittore di finzione, a un metro qua, da sotto, il link che andò a te polcatare fuori sui libri. Il primo di maio, una volta in Drio, sarebbe la festa del Dio Venetico che si chiama Belanu o Beltane, come si era chiamata dai Celti. In questa data venite anche in Fea, la festa del risveglio della natura, che si era sacra a Rezia, la Dio Venetica. L'importante anche a dire è che il nome della città del Monte Beuna è già rinesto del nome del Dio Venetico, Belanu. Così come il nome della città di Belun. Così come il nome della città di Belu.